Bene ragazzi, abbiamo già visto i caratteri del pre-romanticismo e sappiamo che molti caratteri, molti contenuti del pre-romanticismo li troviamo quasi tali e quali nel romanticismo. Romanticismo che possiamo datare nella prima metà dell'Ottocento, all'incirca tra il 1815 e il 1860, però come tutti i fenomeni letterari e artistici queste sono date da prendere molto con le molle, cioè date molto così sommarie. Allora il romanticismo, il romanticismo come sappiamo nasce in funzione anti-illuministica, quindi se l'illuminismo aveva creduto nella ragione, il romanticismo rifiuta la ragione e si abbandona al sentimento, alla fantasia, al sogno, alla follia, insomma tutto ciò che è irrazionale. Se appunto l'illuminismo diciamo ecco teneva molto in conto la razionalità e cercava di comprendere la realtà a livello razionale, il romanticismo invece comprende la realtà dal punto di vista soggettivo è irrazionale. Infatti con l'irrazionalità abbiamo un ritorno alla religiosità, alla fede religiosa che quanto di più irrazionale ci possa essere, per esempio ricordiamo intellettuali del romanticismo che si convertono al cattolicesimo come il nostro Alessandro Manzoni, la cui conversione si può datare al 1810 e altri intellettuali del romanticismo europeo. E così si ritorna al Medioevo, periodo storico che era stato respinto in blocco dall'illuminismo a causa proprio della sua irrazionalità e proprio per questo motivo il Medioevo che è l'età in cui domina una visione teocentrica, religiosa, irrazionale della vita viene riscoperto e rivalutato dal romanticismo. Abbiamo parlato di visione soggettiva e individuale perché chi scrive è l'intellettuale, il poeta genio che infiltra tutta la realtà attraverso la sua visione soggettiva. Il poeta genio che crea senza tener conto di nessuna regola, ecco perché parliamo anche di anticlassicismo, i poeti del romanticismo rifiutano le regole del classicismo perché il poeta è il genio che crea secondo una genialità che è innata nel suo spirito e che diciamo si rifà proprio alla sua fantasia, al suo sentimento, alla sua ispirazione del momento, alla sua passionalità. Come sappiamo, l'abbiamo già visto nel pre-romanticismo, nel romanticismo c'è l'anelito all'infinito, c'è la cosiddetta sensiucht o il sensiucht. Desiderio del desiderio, un desiderio che è infinito e che quindi non trova mai soddisfazione nell'animo dell'intellettuale romantico. Del resto, se la realtà è finita, è limitata, l'infinito non può mai esistere nella realtà, ma esiste solo nella fantasia, nel sentimento, nel sogno, nella follia dell'intellettuale romantico. Del resto è un intellettuale che ha un ruolo diverso nella società, non è certo l'intellettuale opinionista dell'illuminismo, ma è un intellettuale e un artista che perde la sua posizione privilegiata di guida morale, ideale della società, la sua posizione privilegiata di Vate e che invece si sente escluso dalla società borghese. Perché? È un intellettuale che appartiene alla borghesia, perché la classe sociale dell'intellettuale romantico è proprio la borghesia. Però, come Ghete nel suo romanzo epistolare, i dolori del giovane Werther e come il suo protagonista Werther, che non è altro che una proiezione di se stesso, questo intellettuale romantico che appartiene alla borghesia, nello stesso tempo si sente escluso da questa classe sociale. Semplicemente perché la borghesia ha una visione pragmatica, una visione pratica della realtà. La borghesia pensa all'interesse economico, pensa al profitto, pensa all'utile, pensa al guadagno. Naturalmente nell'ambito di questa società borghese un intellettuale che ama il sentimento, che ama le razionalità, che ama il bello, che ama gli ideali, non può naturalmente sentirsi a suo agio, ma si sente, come dirà Baudelaire nella sua poesia l'albatros, si sente come un albatros, come un escluso, si sente un emarginato. E allora proprio per questo motivo questi intellettuali assumono atteggiamenti di rivolta e di anticonformismo. Pensiamo che sono i masnadieri di Schiller, va bene? Il masnadiere, il brigante, Karl Mohr, il protagonista dei masnadieri di Schiller, è proprio il brigante che nasce borghese, ma rifiuta la società borghese e si mette a fare il brigante come atteggiamento di rivolta contro la società borghese. I due atteggiamenti di rivolta e di anticonformismo sono il titanismo e il vittimismo. Con il titanismo abbiamo l'intellettuale ribelle e fuori legge, l'intellettuale masnadiere, l'intellettuale brigante, l'intellettuale che vive al di fuori delle regole della società borghese. Pensiamo che il titanismo si rifà al mito di Prometeo. Prometeo, il titano che disobbedisce a Giove, il titano filantropo che disobbedendo a Giove decide di portare il fuoco agli uomini per portare loro la civiltà. E allora Giove lo fa punire incatenandolo ad una roccia e mandandogli un'aquila che gli erode continuamente il fegato, continuamente perché naturalmente il titano è immortale. Cosa significa ciò? Significa che questo tipo di ribellione è una ribellione fine a se stessa, è una ribellione che non ha un obiettivo ben preciso perché in realtà questi intellettuali ribelli sono anche intellettuali perdenti. Infatti il risultato finale di questa ribellione può essere il suicidio. Il suicidio come ultimo gesto di protesta contro una società che respinge questo intellettuale. Oppure un altro atteggiamento è il vittimismo che si identifica nell'intellettuale che si sente esule e straniero rispetto alla sua patria e rispetto al suo tempo e ai suoi contemporanei. Pensiamo al foscolo il cui esilio si può considerare anche metaforico come appunto disagio dell'intellettuale rispetto al suo tempo tanto che questi intellettuali si rivolgeranno ai posteri anche perché sanno che i contemporanei non li ascolteranno mai. Anche questo atteggiamento può avere come risultato il suicidio. Pensiamo al suicidio di Jacopo Ortis nelle ultime lettere di Jacopo Ortis di Foscolo. E allora se la realtà non piace a questi intellettuali, questi intellettuali tendono a rifiutarla, a fuggire da questa realtà presente e a fuggire in un tempo e in un luogo immaginari. Va bene? La fuga che si chiama esotismo, la fuga dalla realtà, ripeto una realtà limitata, una realtà borghese che non soddisfa questi intellettuali, può essere sia, allora si chiama esotismo questa fuga, può essere sia a livello temporale, e allora si fugge nel tempo, si fugge in epoche ideali come appunto il Medioevo o la Grecia Antica, pensiamo sempre a Foscolo, oppure può essere a livello spaziale, cioè si fugge in mondi lontani e proprio perché lontani e magari poco conosciuti sono mondi immaginati con la fantasia e quindi mondi bellissimi, per esempio il lontano oriente oppure il nuovo mondo, le Americhe. Allora continuiamo con le slide, allora questa si può considerare un'immagine dell'intellettuale romantico perso in questa natura avvolta nella nebbia. Nascono in questo periodo anche nuovi miti che esaltano gli aspetti spontanei e autentici della realtà, abbiamo già parlato col preromanticismo di poesia primitiva e abbiamo parlato di poesia primitiva con i poemetti di Ossian, i canti di Ossian di Macpherson, perché Ossian tra l'altro un'invenzione del poeta scozzese, Ossian è un poeta primitivo come lo è Omero, come lo è Dante, come lo è Shakespeare, cioè poeti primitivi, poeti che vivono in epoche primitive, quindi epoche in cui gli uomini vivono a contatto con la natura e sono ancora puri, innocenti e quindi sono in grado di sognare e di fantasticare. E questa è la vera poesia, lo scriverà anche Leopardi, la poesia che nasce da sogno e dalla fantasia. Quindi la vera poesia è la poesia primitiva e quindi la poesia di questi poeti primitivi Ossian, Omero, Dante, Shakespeare, che vengono presi come modelli. Oppure la poesia popolare, perché anche il popolo, perché anche il popolo, la poesia delle tradizioni popolari, perché anche il popolo è considerato puro e innocente. Allora, se la borghesia è corrotta, è corrotta appunto dal desiderio di guadagno, dall'interesse economico, dal profitto, il popolo per gli intellettuali romantici rimane ancora incorrotto, rimane ancora puro e innocente. E quindi la poesia popolare, la poesia che si lega alle tradizioni popolari di un popolo è anch'essa una poesia per eccellenza. Ecco perché molti intellettuali romantici vanno a cercare, a scavare nelle tradizioni popolari, per cercare le fiabe popolari, oppure le poesie proprio tramandate oralmente. C'è anche il mito dell'infanzia, perché il fanciullo è ancora puro e innocente, perché quando si è bambini ancora si è spontanei, si è dominati dalla fantasia, dal sogno, dall'immaginazione e quindi non si è corrotti come invece in età adulta. Quindi l'infanzia è un'età idealizzata in questo particolare periodo storico, come anche abbiamo detto il popolo e quindi la poesia popolare. E nasce anche il concetto di nazione, la nazione praticamente la fa il popolo e il popolo che cos'è? Il popolo è inteso a livello storico il popolo, intendiamo il popolo italiano, il popolo tedesco, il popolo inglese, il popolo polacco, il popolo è un insieme di individui che hanno la stessa storia, le stesse tradizioni, la stessa lingua, la stessa religione, gli stessi usi e costumi. Ogni popolo ha diritto ad avere una nazione e avere una nazione libera dallo straniero e quindi il concetto di nazione si identifica anche con il concetto di patria, un concetto romantico, la patria per la quale si può anche morire e lo vedremo soprattutto nel romanticismo italiano che coincide con il risorgimento. E quindi cresce l'interesse per la storia vista come un continuo progresso e per le tradizioni popolari del passato. Quindi questo è il romanticismo, tenendo anche conto di quello che abbiamo detto con il pre-romanticismo. E così abbiamo finito.